Ciao a tutti, sono Davide Brugola, B2B Partnership Developer di Ogyre. Ogyre chi è? È una start-up B-Corp che lavora per risolvere uno dei grandissimi problemi ambientali di oggigiorno, che è i rifiuti marini. Noi siamo attivi a livello globale, con diversi porti, in Italia, in Brasile e in Indonesia, e attraverso comunità di pescatori andiamo a recuperare questi rifiuti marini durante le loro attività di pesca. Quello che poi diamo la possibilità ai nostri partner è di collegare queste campagne, che hanno un impatto sia ambientale che sociale, sulle comunità di pescatori, di collegarle al proprio brand o ai propri prodotti. Ovviamente il nostro socio di maggioranza è sempre in mare, quindi non potevamo che non avere la nostra sede a Bojasco, quindi proprio uno dei borghi vicino a Genova, e proprio per questo siamo qui anche a Blue District, il Blue Skills, questo evento, ci permette di andare a parlare a quelle che sono sicuramente le nuove generazioni che hanno interesse ad avere un impatto nel proprio lavoro. Siamo molto contenti di essere qui a Blue Skills per poter parlare con i candidati e vedere se riusciamo a lavorare assieme. Grazie. Grazie. Grazie.